Vietato soffrire di vertigini. In Casa Vertica, azienda di Piancamuno fondata nel 2014 da Diego Bernazzoli e dalla moglie Sabrina a seguito di un'esperienza ventennale nell'ambito della sicurezza, la paura non esiste. Questo perché Vertica si occupa di formazione tecnica altamente specializzata nel lavoro su fune in alta quota ma anche in ambienti chiusi o confinati come miniere e gallerie, luoghi dove nulla deve essere lasciato al caso. Competenze di cui necessitano anche tecnici operatori del restauro, una nicchia della quale Vertica ha trovato uno dei suoi trampolini di lancio. Partita dal campanile di Malonno e dalla torre del Vescovo di Pisogne, l'azienda Camuno ha raggiunto patrimoni artistici internazionali come la cupola del Brunelleschi a Firenze e la torre di Pisa. L'ultima formazione rivolta a professionisti del settore, proprio quella commissionata dall'opera della primaziale pisana, ha coinvolto quattro uomini e quattro donne che, grazie all'esperienza di Vertica, hanno appreso direttamente sul posto come svolgere il proprio lavoro di manutenzione in autonomia, imbragati ad oltre 50 metri d'altezza. Due anni fa siamo stati avvicinati prima di tutto dall'OPA di Firenze, quindi dall'uomo di Firenze, dalla Battistero e anche dal Campanile di Giotto. In questo mondo molto particolare abbiamo formato i tecnici e gli operatori del restauro e con loro è nata questa meravigliosa esperienza che ci ha portato successivamente a fare anche la formazione per gli operatori di Pisa, quindi della torre di Pisa, il Battistero e dal buomo di Pisa. Abbiamo inizialmente fatto una piccola attività di consulenza per capire le esigenze del nostro cliente, essendo molto particolari. Sono opere uniche al mondo e come tali anche gli operatori devono seguire un percorso formativo unico nel loro genere. Abbiamo studiato con loro quello nel rispetto sempre della norma, quello poteva essere il percorso più sicuro per noi, per loro e abbiamo sviluppato un programma vertica proprio per le loro esigenze. Già in cinque giorni siamo stati in grado di portarli proprio a fare attività sulle loro particolari strutture e in particolare sulle torre di Pisa, che volendo guardare è stata forse la cosa più facile. Difficile è stato invece operare all'interno del duomo per la presenza di affreschi, strutture molto antiche, sono strutture che hanno quasi mille anni e anche sulle superfici esterne, quindi sui tetti in piombo eccetera. Il nostro obiettivo è stato quello di formare le persone che già sono dei professionisti qualificati, immagino restauratori, saldatori, tecnici, ispezionatori, collaudatori, a ampliare la loro possibilità di lavoro lavorando anche sulle funi. Per loro la fune è un mezzo di trasporto, non utilizzeranno l'ascensore ma in questo caso utilizzano le funi come mezzo di avvicinamento al loro luogo di lavoro. Quindi il nostro obiettivo è stato quello di portare le persone ad ampliare le loro capacità e di muoversi in un ambiente che fino a poco tempo fa per loro era praticamente inaccessibile se non proibito.